Cari amiche e cari amici, in quest'ultimo video della playlist ho pensato un po' di fare un riassunto di quanto ho detto nei precedenti video. In una playlist del genere sono stato costretto a dare delle definizioni per quanto riguarda la sacralizzazione della religione, la religione politica. E le definizioni sono sempre limitanti, perché una definizione cristallizza un concetto e quindi è uno strumento per orientare una ricerca. Però le definizioni in realtà non sono mai né vere né false, o possono essere insieme vere e false. Tendenzialmente servono a definire, a comprendere e definire, dal punto di vista etimologico, significa definire, segnare dei confini, quindi delimitare, distinguere, precisare. All'inizio della playlist ho dato una definizione un po' orientativa di quella che è la religione politica, come una concretizzazione storica della sacralizzazione della politica nell'epoca contemporanea. Ecco, voglio riprendere un po' questo concetto per svilupparlo e articolarlo, in qualche precisazione, alla luce poi di quanto ho raccontato nel resto della playlist. Dunque, riassumendo, la religione della politica, che cos'è? È una concezione di una determinata attività politica che è vissuta e rappresentata attraverso tutta una serie di riti, miti, simboli, credenze, e riferiti questi a un qualcosa di secolare e sacralizzato. Ci sono elementi che riguardano la fede, la devozione, la coesione tra i credenti e, infine, la religione della politica prescrive, nei video ho parlato di comandamenti, ma in realtà sono codici comportamentali determinati dal partito e una particolare dedizione per la sua difesa e per il suo trionfo al punto di essere disposti perfino a sacrificare la propria vita per il partito. Ogni volta che c'è un regime politico importante questo può trasformarsi in religione politica che ha delle caratteristiche che sono emerse poi in questi video precedenti. ad esempio il primato di una, potremmo definirla, entità collettiva che è al centro di tutta una serie di credenze, di miti che aiutano a definirne il significato. e quest'entità collettiva che può essere identificata con il partito nelle analisi che abbiamo fatto ha una precisa visione di ciò che è bene e ciò che è male. Altro elemento necessario, elemento che ritroviamo in tutte le religioni, una netta distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male. La religione della politica ha un codice comportamentale. Io ho parlato di comandamenti, comandamenti etici, sociali, che racchiudono l'individuo in un determinato comportamento perché l'individuo ha l'obbligo appunto della fedeltà e della dedizione al partito fino al punto di sacrificare la propria vita. C'è un discorso anche legato al sentirsi degli eletti e dunque una comunità che interpreta l'azione politica collettiva come una sorta di messianicità, come una funzione messianica perché deve portare a compimento una missione a beneficio dell'umanità. Ricordate Hitler per mille anni o la dittatura del proletariato. Tutto questo inserito in una cornice dove spicca una liturgia politica sia per l'adorazione della entità collettiva sacralizzata, il partito in particolare, e sia anche il culto delle persone che sono ai vertici del partito. E la religione della politica, attenzione, come abbiamo potuto vedere nello sviluppo della playlist, non è un fenomeno unitario, omogeneo, perché si diversifica a seconda delle situazioni, del momento storico, della geografia anche. Questo vale anche per le religioni. Le religioni hanno elementi comuni ma sono molto diverse tra loro e così una religione politica, se paragonata a un'altra religione politica, per esempio lo stalinismo con il nazismo, ha molti elementi comuni ma ha degli elementi netti anche di differenzazione. Riguardo proprio alla religione della politica è identificata in particolare nei regimi totalitari. Abbiamo visto che si prestano moltissimo a diventare religioni politiche, esperienze appunto come il nazionalismo, lo stesso fascismo, il comunismo. Però abbiamo visto anche che questo fenomeno della sacralizzazione della politica non ha riguardato solo le dittature ma ha riguardato anche tutta una serie di movimenti, di regimi politici legati a forme democratiche che, come abbiamo visto nel caso dell'America e dell'Inghilterra, hanno sacralizzato la loro ideologia in modo da concepire una politica religiosa, potremmo dire, e di instaurare un rapporto anche liturgico tra i rappresentanti e i rappresentati, i governanti e i governati. E allora possiamo trarre da ciò che vi ho appena detto il fatto che le religioni della politica non si identificano in un particolare, cioè non assumono una connotazione particolare, non possono essere definiti di destra, di sinistra, sono totalmente trasversali perché la religione può sacralizzare, la religione della politica, può sacralizzare una dittatura come una democrazia, come un'autocrazia o diversi tipi di manifestazioni politiche. Dunque è un fenomeno molto complesso che presenta poi delle nette differenziazioni tra quelle che sono le religioni della politica nei regimi democratici e le religioni della politica nei regimi totalitari. Queste differenze riguardano sia il contenuto, sia l'atteggiamento verso altri movimenti politici e anche le altre religioni istituzionali, tradizionali, come abbiamo visto. Per questo ho tenuto poi a fare dei parallelismi anche proprio tra le religioni tradizionali di un determinato luogo e la religione politica che nasce in quel luogo e quindi inevitabilmente entra in contatto con la religione tradizionale. Altra caratteristica della religione politica che è quella che proprio attraverso la sacralizzazione dell'alimento politico acquisisce un carattere integralista, un carattere esclusivo perché non accetta la coesistenza con le altre ideologie, con altri movimenti politici e arriva a negare perfino l'autonomia dell'individuo come nel caso dei totalitarismi rispetto alla collettività perché ha dei comandamenti molto netti, specifici, obbligatori che il cittadino deve assolutamente osservare altrimenti le pene sono durissime e possono arrivare fino alla morte. Altro elemento che accomuna tutte le religioni della politica è il venire a patti con le religioni istituzionali tradizionali e quindi ci può essere chi è più ostile rispetto alla religione tradizionale chi invece mira a incorporare la religione tradizionale nel proprio sistema di credenze, nel proprio sistema di miti e allora la religione della politica cerca di subordinare la religione tradizionale a se stessa e quindi in qualche modo di strumentalizzarla. Ovviamente nella realtà storica per quello iniziavo col discorso sulle definizioni, le definizioni che arrivano a cristallizzare processi che invece sono in continua trasformazione, in continuo fluire e quindi anche queste stesse definizioni sono in realtà soggetti a essere, a a divenire flessibili a a trasformarsi anche come una religione civile in particolare situazioni può trasformarsi e diventare integralista, intollerante come la religione tradizionale e questi aspetti ambigui nella playlist sono emersi ad esempio quando ho parlato di Rousseau Rousseau esaltava il primato della libertà come essenza del patriottismo repubblicano però poi attraverso quella che è stata la sua concezione di religione politica portò avanti una situazione che in potenza conteneva un dogmatismo che in genere è insito nella sacralizzazione del corpo politico e della patria nei confronti dell'individuo e queste ambiguità noi possiamo riscontrarle già a partire dalla rivoluzione francese in maniera decisa altra caratteristica che abbiamo visto nei vari video è che le religioni della politica sono un fenomeno moderno conseguente alla secolarizzazione alla modernizzazione dove alcuni partiti politici tendono alla propria affermazione e alla propria autonomia rispetto alla religione tradizionale che trovano questo come abbiamo visto non significa che le religioni della politica non hanno connessioni con le tradizioni con le religioni tradizionali proprio perché il rapporto tra sacralizzazione e culto tradizionale è molto complesso e abbiamo visto che per esempio varia molto da situazione a situazione una cosa è il concetto di sacralizzazione della politica applicato da Stalin rispetto alla chiesa ortodossa in Russia di tutta altra natura è la sacralizzazione della politica applicata da Benito Mussolini con la chiesa cattolica in Italia dove è arrivato perfino al concordato dunque la sacralizzazione della politica non comporta necessariamente una situazione di antagonismo di conflitto con le religioni tradizionali però vuole stare a livello superiore tende a subordinarle altra cosa che abbiamo visto è che la sacralizzazione della politica è strettamente legata con la religione tradizionale al punto da usarne i simboli a volte perfino scimmiottarne la liturgia e una religione della politica può entrare in contrasto Stalin che metteva in manicomio chi pregava quindi entra in contrasto con la religione tradizionale oppure può essere come nel caso degli Stati Uniti inclusiva abbiamo visto nei primissimi video che questa religione civile americana si è riuscita ad armonizzare con quelle che erano e che sono ancora oggi le chiese protestanti c'è da dire però che rispetto alle religioni tradizionali quelle della politica risultano essere da una parte mimetica che si potrebbe dire perché prendono dalla religione tradizionale tutta una serie di credenze di riti di rappresentazioni del loro sistema e le celano dietro le ideologie le filtrano attraverso le ideologie e qui possiamo anche parlare di sincretismo perché si incorporano molte tradizioni molti miti molti riti delle religioni storiche sempre trasformandoli sempre adattandoli al processo e all'universo mitico e simbolico del partito ovviamente poi una caratteristica che mi pare di non aver sottolineato nella playlist è quella che queste religioni sono effimere perché poi nei fatti si sono tutte esaurite nel giro di pochi anni o di qualche decennio nonostante vi ricordate l'internazionalismo proletario che sono il futuro dell'umanità e Hitler per mille anni così non è stato quindi hanno la capacità di suscitare una fede di un entusiasmo incredibili ma di risentire dell'usura del tempo contrariamente alle religioni tradizionali che durano veramente migliaia di anni così la sacralizzazione della politica è una fusione tra la dimensione religiosa e la dimensione politica e ripeto cosa importante è che è un fenomeno nuovo è proprio della società moderna della politica di massa e va distinto da quella che invece è la politicizzazione della religione e adesso gli Isis qua fa stragi e comunicati continui ma quella non è una religione della politica quella è una politicizzazione della religione cioè utilizzare la religione a fini strumentali come nel caso dell'Isis però questo è un aspetto che accenno appena adesso perché non voglio prolungare di altri video questa playlist però vi invito a riflettere anche su questo perché sono aspetti molto interessanti anche questo quindi ecco andando verso la conclusione possiamo dire che la religione della politica non riguarda solo un metodo di governare di una classe politica non è che questa classe politica inventa una propria tradizione per legittimarla poco miti di simboli e non riguarda neanche unicamente l'esigenza delle masse in una determinata in un determinato periodo potremmo dire che riguarda tutte queste cose insieme eh combina la combinazione di tutti questi elementi che si fondono in una rappresentazione estremamente coinvolgente dal punto di vista emotivo che a volte che a volte arriva a toni veramente drammatici no? e così la religione politica è un modo di interpretare la storia un modo di concepire la politica fino a darle un carattere escatologico un qualcosa che riguarda un lontano futuro anche questo del questo studio che ha fatto in particolare il professor Gentile che è stato accusato da alcuni di aver fatto una forzatura un po' nell'interpretare questi fenomeni come religioni politiche ma io non sono assolutamente d'accordo con queste critiche spesso poi credo che questi tipi di critiche in determinati ambienti squalli di universitari nascono proprio dalle invidie dei colleghi perché come avete potuto vedere nella playlist il discorso fila moltissimo invece solo che bisogna adottare un punto di vista più ampio e allora cominciamo a distinguere questa religione politica nelle sue più ampie manifestazioni e comunque al di là del fatto delle polemiche universitari del credere o no all'esistenza di queste religioni secolari ci sono dei fatti che sono storicamente accertati il fanatismo di massa è un fatto storicamente accertato l'entusiasmo per i miti pure Sorel Docet è bellissima la concezione del mito soreliana e poi il culto del capo altro elemento accertato la dogmatizzazione dell'ideologia chi può discuterla l'odio implacabile nella lotta politica in nome di entità sacralizzate di uomini sacralizzati per i quali si può mettere anche da parte una visione etica tradizionale e arrivare a fare atti di violenza incredibili no altra cosa interessante è che questo fenomeno si è sviluppato in particolare tra le due guerre mondiali e quindi dalla situazione che si era creata dopo la prima guerra mondiale inizia tutta questa energia messa in movimento a prendere diverse direzioni secondo poi del luogo geografico anche dove si è manifestata una determinata religione politica comunque possiamo dire per quanto riguarda noi che stiamo vivendo il terzo millennio con una crisi drammatica no però quello che riguarda proprio strettamente la religione e la politica di cui abbiamo parlato in questa playlist e che ha riguardato soprattutto il novecento oggi tutti questi fenomeni parliamoci chiari sono esauriti esauriti o sono in riflusso sono riflusso ovunque perché i totalitarismi sono andati distrutti a volte ripudiati comunque caduti in disuso piccoli dittatori così no quello coreano ma non dello spessore di un stalin o di un hitler ovviamente e così dopo il crollo delle religioni comuniste la sacralizzazione della nazione ha avuto in molti luoghi una sorta di rianimazione apparentemente dove ha dato vita a nuove religioni politiche legate al nazionalismo integralismo intolleranti che spesso avevano connotazioni razzistiche ma tutto questo poi si è andato a esaurire è andato a risaurire è difficile rispondere alla domanda in conclusione di tutta la playlist se questo rifluire delle religioni della politica sono un eclissi definitiva un tramonto irreversibile o no questo nessuno lo può dire al momento è così però è pure vero che l'uomo ha un'attività mitopoietica è produttore di miti non riesce a vivere senza miti senza rituali e quindi non si può escludere non si può prevedere per quali vie in che modo e con quali effetti potrebbero tornare a risorgere nuove religioni della politica chi vivrà vedrà bene cari amici è stato un lavorone per me fare questa playlist devo ammetterlo e spero che abbiate gradito un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo